Sai perché tutti noi abitanti di questo pianeta, bipedi terrestri, conosciamo la Coca-Cola, le Nike e l'Avidas? Perché da sempre è fossilizzata nella nostra retina quei marchi e non sono mai cambiati. Il giorno che cambieranno marchi, cioè noi non li riconosceremo mai più. Quindi secondo me bisogna fare pochi scatti e invadere tutte le agenzie. Cioè la prima volta appena questi arrivano a questo modo la buttano, il secondo giorno la strappa, il terzo giorno, vabbè, va mai chiamato. Grazie a tutti.